Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e Vio 1 Variante. Discipili rallentamenti tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce in direzione Firenze. Per il traffico ferroviario per un inconveniente al treno 4074 Foligno-Firenze, il treno 6238 Roma-Tiburtina-Firenze sta viaggiando con 18 minuti di ritardo. Prima di salutarci per la cantieristica a seguito degli eventi di maltempo del 16 e 17 maggio scorso sono in vigore diversi provvedimenti e chiusure sulla SP20 Modiglianese, la SP29 Traversa di Lutirano, la SR302 Prisichellese Ravennate, la SP477 dell'Alpe di Casaglia, la SP306 Casolana Riolese, la SP32 della Fagiola, la SP58 Piancaldolese, la SP610 Selice Montanara Imolese. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Buon versetto Scana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.